una delle ragazze più belle che abbia mai visto lei col cibo aveva un rapporto tossico più col suo fisico che col cibo stesso era magra ma voleva esserlo di più sempre di più si guardava allo specchio ed era disgustata così diceva ogni tanto provava a dirsi che andava bene così ma durava poco bastava un commento una battuta e ripiombava in quel disagio sei troppo magra mangia qualcosa stavi meglio prima quando eri più magra e allora si toglieva il cibo ma quando mangiava mangiava fino a vomitare ogni sua scelta così ancora e ancora cercando la felicità sul fondo della tazza del cesso ma trovando solo sensi di colpa come si può dare tutto quel potere in mano a degli sconosciuti ciao ciao Grazie a tutti